Il parco 2 giugno Il parco 2 giugno è un nuovo campo da basket all'aperto, fruibile a tutti a qualsiasi ora del giorno, stiamo lavorando anche perché sia accessibile anche la sera, quindi dotandolo di un impianto di illuminazione pubblica perché comunque se regno deve essere veramente, deve aprire le proprie porte a tutti i ragazzi, le ragazze, i bambini e i più e meno giovani che vogliono fare dello sport ed è giusto dargli questa possibilità. Il sindaco Edoardo Mazza settimana scorsa ha fatto il punto sull'andamento dei lavori insieme ai tecnici, confermando che nel giro di una decina di giorni il campo sarà a disposizione di tutti gli appassionati. L'investimento per la costruzione del campo di basket, predisposto anche per la pallavolo, è stato di circa 35 mila euro.